Oggi ti voglio parlare di un'arma leggendaria che potrai rubare all'inizio del gioco. Parliamo dell'atto 1 e di uno spadone a due mani perfetto per un tuo compagno specifico che potrai ottenere relativamente in poco tempo. Considera che quest'arma si ottiene in maniera canonica nell'atto 3 e tu la puoi avere due atti prima. Direi che ci sta. Ah, vale la pena soprattutto se nel tuo team hai deciso di inserire e di utilizzare la Ezeal, il compagno che ti menzionavo prima. Ma andiamo a vedere come ottenere quest'arma leggendaria. Ma prima ti invito a passare per la descrizione dove troverai il gruppo Facebook di Baldur's Gate 3 Italian Community, un gruppo di nostra creazione in cui si chiacchiera e si fanno cose. Dacci un'occhiata. Sappi fin da subito che ti servirà molta pazienza perché certamente si può ottenere ma non è la cosa più semplice da fare. Ci vorranno un bel po' di tentativi per ottenere la spada d'argento del piano astrale. Oh no, te l'ho detto all'inizio, adesso sicuro esci del video. Prima di tutto dovrei procurarti una pozione dell'invisibilità. Se non hai ancora liberato o distrutto il boschetto dei druidi potrai recarti dalla zia Ethel per acquistarne una proprio da lei. Alternativamente ci sono ancora un paio di marcanti che la vendono sparsi per il mondo di gioco. La pozione dell'invisibilità ti servirà ovviamente per avvicinarti non visto e cogliere di sorpresa il mob che porta con sé l'oggetto leggendario. Ed infine dovrei essere un guerriero di livello 3. Ma, e questo discorso è tassativo, non potrai usare la Esel. Purtroppo quest'arma è in mano ad un Gityanki ed essendo l'Eisel in cerca dell'asilo, di cui questo personaggio fa parte, essa farà partire in automatico un dialogo non appena vedi i suoi compagni. E dunque salta tutto per aria. Devo dire la verità prima di continuare. Ci sono davvero un sacco di modi per ottenere questa arma che girano per internet, ma io mi sono trovato meglio con questo, o perlomeno mi pareva il più sensato da condividere. Ho visto qualcuno cercare di strappare l'arma di mano al comandante Kitrat Voss sfruttando Cuore Oscuro e l'Incantesimo Comando, con un 12% di successo. Ho visto chi ha scelto la Forza Bruta sfruttando un glitch per fare in modo che il boss non fugga, e via così discorrendo. Poi ho trovato questo metodo, che reputo certamente il più ripetitivo, ma anche il più sicuro tra tutti quelli che essenzialmente girano per YouTube. D'altronde, se bello vuoi apparire un po' devi soffrire, e dunque passerai, a seconda della tua fortuna, parecchio tempo a tentare. Ma torniamo a noi. Dovrai avere un guerriero che non deve essere la Esel, come ti dicevo prima. E come ben sai, non ci sono altri compagni guerriero, esclusa la Ghiti Anki, e il tuo personaggio se hai scelto questa classe. Ma, se il tuo personaggio non è un guerriero, come si può fare? Dovrai aver liberato l'Avvizzito, uno morto che troverai al tuo accampamento. Per farlo dovrai completare il primo dungeon che puoi incontrare nel gioco, ossia la chiesa ripiena di banditi, dove Cuogo Scuro cerca di entrare se non l'hai salvata su un Nautiloide. Non puoi sbagliare, la trovi appena nato nelle terre selvagge. Piccola nota, potresti trovare l'Avvizzito all'accampamento, anche senza averci parlato prima. Mi è capitato di non averlo mai cercato, in realtà, nelle mie run, e comunque compariva l'accampamento. La sua utilità è che potrai usarlo per cambiare classe, per risuscitare i compagni, e per ottenere dei nuovi compagni. A te interessano queste due ultime funzioni. Prepara fin da subito 100 d'oro, perché dovrai evocare un Gregario. Non uno qualsiasi, ma Varanna San Blossom. Questo Gregario è un guerriero, ed è proprio quello che serve a te. Ovviamente, per poterlo evocare, dovrai avere uno slot libero nel tuo gruppo. Una volta scelta, essa salirà direttamente al tuo livello, e devi essere almeno al 3, per fargli ottenere la sua sottoclasse. Ed è qui che arriva la parte importante. Devi, quando la fai salire di livello, scegliere di essere un Maestro di Battaglia, una delle sottoclassi di questa classe. Successivamente, vai alla voce Manovre, nelle quali dovrai sceglierne 3. Tu devi selezionare, tassativamente, Attacco Disarmante. Ora, ti faccio un breve recap. Tu hai una pozione di invisibilità, ed un guerriero, con Attacco Disarmante, e non deve essere l'Eisel. Ed è tutto quello che ti serve, in realtà. Ora, devi recarti al passo montano, alla tappa a riposo di Vauken. Da qui, avanzando verso Ovest, incontrerai l'evento dei Ghiit Yankee. Arriverà un Drago Rosso, ed i Ghiit si spargeranno per la zona. Tu, a questo punto, devi considerare molto bene una cosa, prima di fare qualsiasi azione. tende a sparire, si teletrasporta via. Quindi, vai con calma, e ascolta il resto di quello che ti sto per dire. Prima di tutto, sciogli il tuo gruppo, in modo da muovere un personaggio solo. In modo che tre dei tuoi personaggi, rimangano indietro al sicuro, e solo uno, si avvicini al comandante. Ingurgita la pozione di invisibilità, con il tuo guerriero, con Attacco Disarmante. avvicinati al comandante, che si trova di fronte al Drago Rosso. Diciamo che lo puoi riconoscere, anche perché si chiama comandante, è proprio anche nel nome. A questo punto, salva la partita, perché ci vorrà parecchio tempo, e parecchi tentativi. Piccolo consiglio, se giochi da computer, con F5 salvi la partita, con F8 la ricarichi normalmente, senza passare per il menu. Ora ti trovi dietro, o di fianco al comandante, completamente invisibile, e devi usare Attacco Disarmante su di lui. Subito dopo aver sferrato l'attacco, attiva la modalità turni, maiusc spazio su computer, e guarda se il comandante, ha lasciato cadere la sua arma. In pratica, devi vedere se sulla sua testa, compare il tiro salvezza fallito, perché se fa successo, la mantiene. Dopo un svariato numero di tentativi, dovresti riuscire ad ottenere l'arma, ed in questo caso, la dovrai raccogliere velocemente. L'arma è la spada d'argento del piano astrale, e... aspetta che succeda l'inevitabile, non hai molto altro da fare. I JIT ti massacreranno come giusto che sia, però tu hai già l'arma bella pronta nella tua saccoccia. Passa ad uno dei personaggi che hai lasciato indietro, e torna nuovamente all'accampamento per parlare con l'avizzito. Esso ti permette, al modico costo di 200 d'oro, di resuscitare i tuoi morti. Dovrei farlo per mettere mano all'arma leggendaria, quindi non essere avaro e sgancia. Il tuo gregario, o il tuo guerriero, ritornerà in vita, e potrai finalmente sfruttare quest'arma. Ora, sinceramente, puoi fare un po' quello che ti pare del gregario. Sacrificalo, lascialo lì o che ne so io. Fatto stare non ti serve più, perché quest'arma dà il meglio di sé con la Esel. Arriviamo così a parlare della spada d'argento del piano astrale. Un'arma che parte con un incantamento dell'arma più 3, ed un danno che va dai 9 ai 24 danni. Oltre al danno tagliente, fa anche un danno psichico. Le sue due abilità uniche sono Arma Psionica Git, che recita se sei un Gitianchi, infliggi da 1 a 6 danni psichici extra con quest'arma. Ed ecco perché ti consigliavo di usarla con la Esel, a meno che il tuo personaggio non sia anch'esso un Gitianchi. Inoltre hai anche il perk Resistenza Psionica Git. Se sei un Gitianchi, ottieni vantaggio e tiri salvezza su intelligenza, saggezza e carisma. Sei resistente ai danni psichici e non puoi essere affascinato. Oltre alle solite mosse della spada a due mani, quest'arma sblocca anche Spezza Anime. Lacera il corpo e l'anima di un nemico e tenta di stordirlo. Insomma, un'ottima arma da avere all'inizio gioco, soprattutto se la tua razza coincide con questi perk. E prima che me lo dimentico, Spezza Anime fa dai 21 ai 31 danni. Se però, proprio come me, non hai pazienza, potresti ottenere qualcosa di molto simile semplicemente recandoti a prendere un'altra arma leggendaria che si trova nel lato 1, il sangue di Latandl. Quest'arma si trova nell'asilo Gitianchi e dovrai, per ottenerla, a meno che tu non sia o non abbia nel party l'Esel, abbattere un'altra capitana dei Gitianchi, Kitrak Teresin. Questa capitana ha un'arma molto simile. Sto parlando dello spadone spaccanime, un'arma rara che fa danni taglienti, radiosi e psichici. Quest'arma condivide spezzanime come abilità aggiuntiva ed inoltre ha altri due perk molto utili. Arma psionica Git, che funziona esattamente come nell'arma leggendaria ma fa da 1 a 4 danni, e conclude con raramente la sprovvista che dona un bonus più 2 all'iniziativa ed un incantamento dell'arma al più 1. Sebbene non sia la stessa cosa, anche quest'arma è ottima e ti permette di avere un buon sostituto se non hai pazienza. In fondo potrai trovare l'arma leggendaria in questione anche nell'atto 3 di Baldur's Gate 3. E prima di salutarci voglio ringraziare Nonno Lento che mi ha suggerito ed ispirato questo video con un suo commento sotto al video dell'arma leggendaria Sangue di Latander. Dunque, grazie mille per l'ispirazione. Fammi sapere cosa ne pensi di questa fantastica arma e quanto ci sei stato per ottenerla. Inoltre, ho visto che molti amanti delle magie conoscono mille modi più di me per risolvere questi problemi. Dunque, fatti sentire. Grazie. 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 Grazie.